Buongiorno a tutti, allora finalmente delle news belle, 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 un matrimonio, due future nascite e una curiosità diciamo parrocchiale, clericale, eccetera, eccetera, e però non è brutta, anzi è una cosa muy particolare, come direbbero in Spagna, in Spagna. Comunque, prima notiziona, questa attrice, questa topolona, ormai è diventata Milf perché ormai è superato i 40 quindi è Milf, però è ancora buonotta dai. Cristiana Capotondi è incinta, l'attrice di Notte prima degli esami e le fate ignoranti diventa mamma a 42 anni del suo primo figlio con il compagno, il conduttore e imprenditore Andrea Pezzi. Le conferme arrivano dall'entourage dell'attrice. Nata a Roma il 13 settembre del 1980, quindi farà 42 anni tra un mesetto, la Capotondi è diventata famosa per la commedia di Fausto Brizzi, Notte prima degli esami. Nel 2006, fin del 2006, accanto a Nicolas Vaporidis con cui era nato un amore sul set. Prima di questa esperienza cinematografica, tanta tv e qualche ruolo da grande schermo. Dopo il boom del film per il quale l'attrice è stata anche candidata al David di Donatello, una lunghissima lista di titoli divisi tra commedie sentimentali, dopo Vaporidis accanto a Fabio De Luigi, la peggior settimana della mia vita, o Pif, la mafia uccide solo d'estate, ma anche storie vere di impegno come la Fission su Lucia Annibali, la miniserie Io ci sono, o il film di Marco Tullio Giordana sul tema delle molestie sul lavoro, nome di donna. Il suo ultimo impegno è stato la serie tv di Fersan Otspetech, le fate ignoranti. Remake del film Cult del regista. Grande appassionata di calcio e capodelegazione della nazionale di calcio femminile dell'Italia, devo dire che ha portato una sfiga che metà bastava, perché vedendo come è andato l'ultimo europeo, diciamo che se l'Italia all'europeo ci è andata bene, quella maschile, poi l'abbiamo pagata saltando anche il prossimo mondiale. Quella femminile ha avuto parecchia sfortuna, bisogna dirlo. Mea culpa, anzi loro culpa, perché hanno sbagliato parecchio, però comunque hanno giocato, se la sono sempre, a parte con la Francia che è una schiaccia sassi. La storia d'amore con Andrea Pezzi è di lunga data, i due stanno insieme dal 2006, quindi appena finita la storia col Vaporidis, che è scattata subito l'attrazione per il Pezzi. Entrambi piuttosto riservati per quel che riguarda la loro relazione. Queste le parole dell'attrice. Non so se ci sposeremo, aspetto, anzi no, queste le parole dell'Andrea Pezzi, signori. Non di lei ma di lui. Ho fatto una gaff, chiedo Venia. Dicevamo, ecco le parole dell'attore. Non so se ci sposeremo, aspetto che me lo chieda lei. Aveva dichiarato Pezzi a Caterina Balivo nella sua trasmissione Vieni da me. Staremo a vedere intanto, io resto dell'idea che quando due persone che fanno coppia decidono di fare un figlio, di avere un figlio, come se fossero sposati, anche se non si sposano, sono più legati che non da sposati. Un parere personale. Veniamo a questa curiosità molto particolare. Madre Maria Vittoria Longitano, siciliana, classe 1974, è una vescova dell'Inclusive Anglican Episcopal Church, quindi della chiesa anglicana episcopale, inclusiva o esclusiva. È stata la prima donna italiana ad essere ordinata in Italia ed è anche moglie di Andrea e mamma di Teresa. Sapete benissimo che gli anglicani, come i protestanti, eccetera, possono sposarsi. Solo la chiesa cattolica resta sempre ancorata a duemila anni fa. Noi loro restano indietro. Noi restiamo indietro, visto che sono cattolico anch'io, anche se un po' seguo anche altre cose. Sulla vincenda dell'anziana suora che a Napoli ha interrotto un bacio tra due modelle dicendo è il diavolo, lei sorride. Due persone adulte e consensienti sono libere di baciarsi se sono felici di farlo. Madre Maria Vittoria ha celebrato il primo matrimonio omosessuale nel 2010 a Cormano, nell'Internam milanese. Abbiamo anche ricevuto diverse minacce. C'era persino la polizia, la Madonna. E da allora ha unito tante altre copie dello stesso senso davanti al Signore. Molte chiese si limitano alle benedizioni. Noi invece celebriamo il matrimonio egalitario. Quindi anziché andare in Spagna diventate anche voi anglicani e non dovete andare in Spagna a sposarvi. Infatti alla domanda che cosa avrebbe fatto lei quando si avesse visto le due ragazze che si baciavano, lei ha risposto forse avrei chiesto loro se volevano sposarsi. Vedete la differenza. Ma è anglicana, non è cattolica. Comunque proseguiamo. La prima vescova d'Italia. Due donne che si baciano se amore è opera di Dio. Dunque l'amore omosessuale non è opera di Satana. Sentiamo cosa dice. Amore e sessualità sono opera di Dio. Ma la sessualità non guardo. Quello è appannaggio delle coppie. Quello che mi interessa è il rapporto che c'è fra i due aspiranti coniugi. Il modello di relazione della Bibbia è l'alleanza. Le due parti possono sigillare questo patto se rispettano alcuni requisiti, come previsto nei diritti canonici di tutte le chiese cristiane. La fedeltà, la volontà di stabilire dimora nello stesso luogo, l'obiettivo di condividere la vita. Naturalmente poi devono essere credenti. Ci interessa il comportamento, non l'orientamento sessuale. Sfondano una porta aperta perché anch'io guardo al comportamento di una persona e non per chi vota, cosa gli piace nell'ambito amore, per quale squadra tifa. I miei migliori amici sono milanisti, juventini e interisti. Quindi non ho nessun problema. Nello stesso tempo, amici, di un determinato partito che mi sta sui testi, però sono brave persone, quindi faccio come Don Camillo con Peppone. Ma proseguiamo, proseguiamo perché io ogni tanto divago. Le chiedono, quando ha deciso di diventare sacerdote? Da bambina mi identificavo con il prete. Giocavo facendo finta di stare all'altare. di spezzare il pane e consacrare le ostie. Le sciarpe di mia madre diventavano stole e io battezzavo le bambole nel bidet. Le facevo anche sposare tra loro, preparavo gli anelli nuziali con la carta. Le hanno chiesto la sua famiglia quale religione seguiva? Cattolica, io andavo sempre a messa, ero già religiosissima. Poi il parroco mi disse che Gesù non voleva donne prete e io ne soffrì molto. Rimanevo devota nonostante tutto. Ne chiedono e non si rassegnò. Visto che avevo un'idea di radicalità e appartenenza molto forte, scelsi il monastero di clausura. Ci furono grandi litigate con mia mamma, che dopo la mia laurea vedeva per me un'altra carriera e anche le monache cercavano di scoraggiarmi dicendomi che la contemplativa ha solo Gesù, ma a me questa prospettiva in realtà esaltava. Poi però il monastero chiuse. Quelle monache furono accusate di essere troppo progressiste. Allora le hanno chiesto e lei cosa fece? Tornai a casa, più avanti conobbi il mio futuro marito Andrea e mi trasferì a Milano per amore. Lì cercai una chiesa che mi potesse rappresentare e la trovai. Nel 2010 fui ordinata sacerdote. Dall'anno scorso sono vescova primate. Che ne dice suo marito? Le hanno chiesto. All'inizio ero un po' perplesso. Io diventavo il primo sacerdote donna, lui la prima perpetua uomo. In realtà mi è sempre supportato e anche diventato membro della mia chiesa e, anche se nessuno l'ha obbligato, adesso è un mio parrocchiano, dice lei. Gli fanno notare che la chiesa cattolica ancora non apre alle donne e lei ha risposto. Pare che Papa Francesco stia promuovendo qualche cambiamento, anche perché il mondo va in questa direzione ormai ed è inarrestabile. Ma la chiesa cattolica non vuole far salire la donna sull'altare. Le concede solo ruoli amministrativi, anche importanti per carità, purché non gestisca il sacro. Gli fanno notare che invece è una chiesa che l'ha accolta e che accoglie anche gli omosessuali. La risposta di lei. L'accoglienza, a dire il vero, si accorda anche a un cane. La mia, invece, è una chiesa che non discrimina. È come se io fossi il notaio di Dio e devo essere imparziale. Se devo autenticare un patto, mi devo attenere a quello che è scritto nel codice della chiesa, cioè la Bibbia. Queste sono le condizioni. Con quale diritto posso dire di no a chi le soddisfa? Ecco, è una domanda che però vorrei fare al Santo Padre quando una ti dice con quale diritto posso dire di no a chi le soddisfa. Quindi, se loro seguono quei tre dettami di fedeltà, andare a vivere nello stesso tetto e condividere la vita insieme. Perché glielo impedite? Va bene. Proseguiamo, proseguiamo perché le notizie sono tante, milioni di milioni, il gigione va avanti. Questo è veloce comunque. Ed è bello anche questo, è un matrimonio, finalmente si sono sposati. Fanno coppia fissa dal 2015 e dal 2019 condividono la figlioletta Nora Grace. A Nina Senikar e Jai Ellis mancavano solo le nozze. Dopo i famosi blocchi e ritardi alla cerimonia causati dalla pandemia, finalmente sono arrivati i fiori d'arancio per la modella serba, 36 anni, e l'attore americano, 40. Sabato 9 luglio, cioè un mesetto fa, Nina Senikar e Jai Ellis si sono sposati in presenza di amici e familiari e per l'importante occasione hanno scelto una suggestiva location immersa nella campagna toscana. Pur abitando da molto tempo a Los Angeles, la città del cinema dove è più facile ottenere ingaggi, i due hanno prenotato per il giorno del Sì, la lussuosa villa Mangiacane a San Casciano, in Val di Pesa, non distante da Firenze, dove più tardi hanno fatto tappa come Mr. e Mrs. Alice. La top model ha anche condiviso via social la prima foto delle nozze sul suo account e ha scritto juli o juli 9, 9, 2,000, 22, forever, no 2,000 è migliaia, no 2,000 dovrebbe essere giusto perché 200, 100 e 2,000 dovrebbe essere, mille, però correggetemi se sbaglio, comunque è 9 giugno 2022 per sempre. Aspettate che controllo perché è 9 luglio 2022 per sempre. Nell'immagine si vedono i devo e neosposi belli come il sole, entrambi vestiti dolce e gabbana, mentre camminano mano nella mano e occhi negli occhi, lungo un classico viale toscano bordato di cipressi e anche di lecci. Auguri! Proseguiamo con quest'altra bella notizia con cui concludiamo le news del Gigione, anche questa è una notizia bella bella bella, di una ragazza che ci piace molto, uso il plurale maestatis per lei. Bianca Zei è incinta. Solo l'anno scorso, a ottobre, aveva parlato del lungo calvario che lei e il compagno Stefano Corti hanno dovuto affrontare per riuscire a formare quella famiglia che tanto volevano. Prima un lungo post su Instagram in cui Bianca Zei spiegava il percorso con la fecondazione assistita, la felicità nel vedere il test di gravidanza positivo ma poi la tragedia. Un apporto spontaneo ha sgritolato la loro felicità. Finalmente sui loro volti torna a splendere il sorriso e con grande gioia Bianca e Stefano hanno annunciato che presto diventeranno genitori. Queste le parole della cantante. Ti abbiamo desiderato barra desiderata o slash desiderata più di ogni altra cosa al mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore. Queste le dolcissime parole scelte per descrivere le due immagini condivise su Instagram, una di lei con il pancione e una dell'ecografia. Una gioia immensa per la coppia che stava aspettando questo momento da molto tempo. Le parole di Bianca Zei su quell'attimo, quel momento di felicità. Quando ho visto quel test positivo è stata l'emozione più bella della mia vita, scriveva l'anno scorso Bianca. Eravamo al settimo cielo, avremmo voluto urlarlo al mondo intero. Purtroppo quella felicità è sparita nel momento in cui abbiamo saputo che la gravidenza si è interrotta dopo qualche mese e si è dovuto intervenire chirurgicamente. Sono passati dalla felicità più grande alla sofferenza più forte. Prima di ricorrere alla fecondazione assistita, Bianca e Stefano hanno provato per più di un anno, ma con il passare dei mesi lo sconforto era sempre più forte, come anche la paura che qualcosa non andasse. Spesso ci siamo sentiti dire non pensarci più, non pensarci, più ci pensi e più non arriva. Ma come fa a non pensarci una donna ogni volta che arriva al ciclo? Spiegava ancora, sottolineando che quando si è sentita pronta a diventare madre, con il passare dei mesi, la mente inizia a fare brutti scherzi. Pensi che ci possa essere qualcosa che non va e cominci a risentirne. Ogni mese che passa si affievolisce la speranza, che però non ritrova forza nel mese successivo, tanto è grande il desiderio di averlo. Bianca a sei è l'aborto, la mia battaglia tra esami e punture in pancia. Bianca e Stefano, storia di un amore. La cantante e l'inviato delle Iene sono fidanzati dalla primavera del 2019. Entrambi prima erano fidanzati rispettivamente con Masbiaggi, Sorvolerei e Veronica Ruggeri. Non so com'è andata tra Stefano e Veronica Ruggeri, so com'è andata con Masbiaggi e preferisco non dire nulla perché se no potrei dire qualcosa di molto molto cattivo. A mostrare per la prima volta la coppia insieme è stato il settimanale di Vedonna che li fotografò mano nella mano a Milano. Particolarmente toccante è stato il gesto che Stefano ha fatto per la sua Bianca quando la compagna ha deciso di condividere il dramma dell'aborto. Pubblicò su Instagram il video che immortala Bianca nel momento in cui gli rivela di essere incinta. Bene ragasoli, dopo questa bella notizia, perché tutte belle notizie, ho finalmente delle news belle che ci piacciono. Queste sono le news che ci piacciono e anche qui uso il plurale maiestatis perché ci vuole, quando ci vuole ci vuole e vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!